Il centro di riabilitazione teri di Cava dei Tirreni è da oltre 30 anni sul territorio. Cavese è molto attiva sul mercato negli ultimi giorni. Il club meteliano dopo la riconferma di Ciro Foggia e l'acquisto del difensore centrale Buschiazzo ha rinnovato anche con il roccioso Kevin Maghi e punta decisa alle prossime ufficializzazioni tra i quali spicca quella di Giorgio Megna, classe 2005 difensore, nell'ultimo anno al Catanzaro di Mister Vivarini con cui ha collezionato due presenze in Coppa Italia di Serie C. Una vera e propria asta si è scatenata per l'attaccante serbo Marco Rajkovic. Nove gol nell'ultima stagione alla Francavilla per l'attaccante tantissime offerte tra le quali quelle di Casarano, Nardò, Prato, San Marsano, Casertana, Musane e la Cavese che sembra più avanti di tutte. Sfumata invece la trattativa avviata con l'attaccante Francesco De Felice, l'anno scorso alla Paganese ha spuntato la Turris che con il club meteliano e la Casertana si erano interessate fortemente del talento napoletano. Notizia dell'ultima ora è l'ufficializzazione del centrocampista Francesco Antonelli, romano, classe 1999, l'anno scorso a Lumezzane, è stato uno dei principali protagonisti della vittoria del campionato con 31 presenze e 8 retti al referto. Ciao Cava, non vedo l'ora di iniziare questa nostra avventura insieme e di toglierci grandi soddisfazioni. Forza Cavese! Per le altre ridi, il Matera ufficializza il trequartista brasiliano Isaac Prado. Il classe 1995, proveniente dal settore giovanile del Botafogo, ha vestito le maglie di Gravina e Lavello. A Martina arriva il difensore Gianmarco Rizzo. 17 partite giocate con la maglia del Casarano nell'ultima stagione. Il Fasano annuncia il ritorno di Facundo Ganci. Il centrocampista fu tra i protagonisti della promozione in serie di dei Biancazzurri. A Cireale è scatenata sul mercato. La squadra siciliana, allenata da Mister De Sanso, dopo la riconferma di Capitan Savanarola, ha ufficializzato gli acquisti del centrocampista ex cavese Fabio Corigliano, Totò Maltese, difensore centrale proveniente dalla San Cataldese e dell'attaccante Giorgio Cecirello, nelle ultime tre stagioni alla città di Sant'Agata, autore di 29 gol.